verona green moviland e my planet 2050 straordinariamente in trasferta a venezia all'hotel danieli incontriamo il presidente che ci racconta che cosa accade oggi oggi faremo la cerimonia di premiazione del premio protagonisti del tempo che è arrivato quest'anno all'ottava edizione e prevede tre segnalazioni speciali e due premi le segnalazioni speciali si riferiscono al festival cinema impresa che sarà adesso a metà settembre poi il festival di somma campagna con il focus sull'intelligenza artificiale e poi la terza segnalazione speciale è per un progetto dove si parlerà di slow verona festival cioè tutt'attività legate allo slow mentre invece i premi veri e propri saranno uno per il progetto visioni dentro realizzati in collaborazione tra il carcere femminile e il carcere maschile di venezia e il film festival della lessigna il altro premio verrà assegnato a stefania battistini corrispondente giornalista e corrispondente della rai nella zona di guerra in particolare in ucraina ogni anno verona green moviland assegna questo riconoscimento che è appunto protagonisti del tempo a figure e progetti che promuovono i valori fondamentali come la responsabilità sociale la sostenibilità ambientale l'accoglienza la solidarietà l'informazione libera e indipendente grazie a tutti grazie a tutti